e poi il sindacato confederale ha i maxi stipendi. Come è venuto molto comodo prendere i dati del tutto parziale, ognuno di noi ce l'ha a metà anno della vostra CGL, e renderla uno scoop sul giornale per dire che il sindacato confederale ha meno iscritti. E anche l'articolo di oggi, sui bilanci del sindacato, sui patronati, sui CAF, risponde esattamente a questa logica. Allora io credo che oggi suolgere se non fondo il nostro ruolo sia il modo migliore per dire a tutti che il sindacato confederale c'è, è rappresentante di migliaia e di milioni di uomini e di donne e fa la sua attività attraverso migliaia e migliaia innanzitutto di volontari che sono il perno e il cuore delle nostre organizzazioni. Se insieme sapremo fare questo, cambieremo davvero marcia a questo Paese, lo renderemo più equo e più giusto e faremo contratti che garantiscono certo la produttività e la competitività delle imprese, ma allo stesso tempo il diritto di vita, di dignità dei lavoratori e delle lavoratrici. Grazie e buon lavoro. Grazie.